Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del canale Oggi ragazzi, siamo qui Un novesimo video Oggi ragazzi Siamo qui con I 5 peggiori attaccanti della Roma Di sempre Chiudiamo con i peggiori, anzi gli allenatori anche ci sono 4 ne facciamo allenatori Non 5 Ho scelto la fine circa perchè 10 non volete troppo Il video è troppo Iniziamo con il quinto Gregorale Defrel Allora ragazzi, Defrel è stato un flop Della stagione 2007-2018 Che la Roma ha preso d'alzassuolo Sì Inizialmente non giocava mai Poi ha fatto giocare Inizialmente di Francesco E ha fatto un gol con la Roma Un gol su rigore Contro il Benevento sul 5-2 Su rigore Ha preso pure il palo gol Quindi è una stagione fallimentare Di Defrel È quella con la Roma Quindi Defrel non lo posso non mettere Non lo potranno scudere Non lo potranno mettere E' stata veramente una Stagione del tutto fallimentale per lui Quarto Iniziamo già Iniziamo già Con il quarto Ha messo Stefano Cacca Adesso gioca l'Udinese Coro un gol L'unico E' anche molto bello Perché fa un gol di tacco Contro il Siena Al 88esimo Che regala 3 punti d'oro Sfrutto 1 alla Roma All'Olimpio Contro il Siena Quindi Ha lasciato la Roma Perché poi doveva andare a Londra Penso sì Ha lasciato la Roma con quel gol di tacco Molto importante dall'altro Una sfida alla Roma Per andare in Europa Quindi Cacca Però La Roma ha fatto male Per essere un'attaccata Se ne ha risultato un gol Avere pochi spazi Da Ranieri Penso che c'era in quegli anni 2010 C'era Ranieri Allora Ranieri Lo Spalletti Penso Ranieri Quindi L'ha messo come Quarto peggiore Attaccato All'Olimpio di tutti i tempi Terzo peggiore Abbiamo Dumbia Ragazzi Nell'Ax Sescamosca Veramente male 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 2014-2015 Dumbia Nel trasferimento Ha giocato Pochissime partite E quelle partite Non ha fatto neanche un gol Ragazzi Che volete sapere O un gol No penso che un gol Ha fatto più sputi Sul campo Che gol Ragazzi Sputava sempre Mi sembrava Che c'era il tabacco in bocca Sembrava che c'era Dumbia Sputava sempre In campo Quindi L'ha messo come La regione Che è stato Un flop assurdo Della Roma Dumbia È stato veramente Un flop assurdo Della S-Roma Il secondo Il secondo Ragazzi Quindi Stavo parlando Di Dumbia Dumbia Ripedia È stato veramente Un flop assurdo Della Roma L'Italia Ha fatto presenze E tra l'altro Nessun gol Per essere un attaccante Poi abbiamo Ragazzi Vittori Barbo Alla seconda posizione Anche i Barbo Ragazzi Frenna Roma Con pochi spazi Perché ricordiamo Che c'era i turbe Anche i turbe Non l'ho messo Perché non sono buono Perché comunque Era giovane C'era un po' di esperienza Ma doveva mettere Anche i turbe C'era i turbe C'era Francesco Totti Che non davano Speranza Sia o Dumbia In quegli anni Sia il Barbo Che erano Due acquisti male E quindi Anche il Barbo Ha fatto Ha fatto qualche gol Sicuramente Il più di Dumbia Che ha fatto i 0 O 0-1 O 2 pure Ha fatto i più gol Il Barbo Ma anche il Barbo È stato Un flop Della Roma Nel 2012 L'ultima Stava parlando Cic Ha pagato 42 milioni Per niente Perché Ha fatto 5 gol Ma anche nell'altro anno Farò Anche l'altro anno Ancora Dopo andare Alla Juventus Non c'è per nera Perché non è passata Le visite mediche Le metto Sempre fortuna Perché Solo prendeva E quindi Il flop Di giornata È Patrick Schick Che per me Ripetiamo È il peggiore Tra tutti Quindi ragazzi Se vi è piaciuto Questo video Se non mi piace Prossima All'allenatore Peggiore della Roma Mi piace Commento Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo Al prossimo video Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti